crotch bind set benvenuti amici del canale d'ampatragbi a ce l'ho fatta oggi mi è venuta mi è venuta bene benvenuti ieri mi sono intorcolato ingarbugliato benvenuti amici al canale d'ampatragbi buon martedì se oggi è martedì martedì per chi l'ascolta martedì e buon tutto per chi l'ascolta in qualsiasi altro momento youtube questa cosa bella che poi i video restano un po quando gli pare piace e niente mancano sei giorni cinque anzi cinque per per l'inizio del del natale come è stato definito dagli amici di ovale e invece sei per per l'esordio dell'italia e sei per l'esordio dell'italia e iniziamo a introdurre un po l'argomento di cui vi volevo parlare oggi ossia l'italia che italia ci dobbiamo aspettare ieri è uscito un video secondo me di quelli che fanno opinione ossia ci saranno molte persone che guardando questo video soprattutto nel mondo ovviamente anglo parlante non so se si può dire così si dice mi tanto francofono anglofono anglofono soprattutto nel mondo anglofono che magari domani che magari in questi giorni si guarderanno il video che ha messo fuori squidge rugby e dove parla dell'italia dove parla dell'italia e si formeranno un'opinione allora io me lo sono intravisto ieri e me lo sono rivisto bene questa mattina prima di iniziare prima di iniziare il video e vi volevo proprio parlare di quello però prima di parlare di quello vi volevo chiedere ragazzi sono veramente lo avete visto no sto facendo questo esperimento tra l'altro io credo che di contenuti puri youtube diciamo che non siano video che non siano sì ci sono interviste però di contenuti così di opinione in italiano su rugby ci sia praticamente solo questo se ce ne sono altri fatemi riconoscere che a me piace ascoltare vedere assolutamente tutto quello che c'è di interessante sul mondo del raggi però insomma c'è solo questo mentre magari nel mondo del calcio ce ne sono 874 mila virgola 37 nel mondo della palacanestro anche nel praticamente in tutti gli altri sport quindi questo mio esperimento spero che vi piaccia e se siete qui perché vedo che al di là del numero degli iscritti del canale che ancora relativamente basso ma quelli le visualizzazioni sono tante tenete presente che questo mio canale era un po annaquato dal fatto che io prima facevo contenuti in spagnolo quindi c'è un po di gente iscritta al canale a cui non gliene frega assolutamente niente cioè non è che non gliene frega non capisce e quindi ancora un po annaquato però vedo che appunto su 148 credo che siano gli iscritti tutti i giorni stiamo facendo 70 80 90 visualizzazioni eccetera eccetera il che significa che piacciono poi mi arrivano anche dei feedback positivi mi arrivano dei like eccetera eccetera e allora vi voglio chiedere di darmi una mano di darmi il famoso sostegno reggistico in cosa non vi chiedo niente tranne un like un commento se fosse possibile così che facciamo un po arrappare il l'algoritmo di youtube e e poi magari una cosa molto reggistica se voi pensate che possa aiutare il fatto di restare aggiornati di ascoltare in una forma un po così più leggera contenuti reggistici magari non lo so se siete dei genitori se siete dei degli allenatori se siete dei giocatori fate uno sforzo prendete questo questo link e mettetelo magari nei gruppi whatsapp delle vostre squadre volete sentire uno uno scemo che parla di regghi tutti i giorni eccetera eccetera ve ne sarei molto grato gratto oppure condivideteli sui social ok quindi se potete un piccolo sostegno da questo punto di vista che andiamo nell'argomento allora argomento di oggi appunto parliamo dell'italia parliamo dell'italia domani faremo un po la segna stampa come avevamo iniziato a inizio sto cercando di di cadenzarmi no per non fare sempre tutti i giorni la segna stampa magari avevo pensato che il mercoledì potrebbe essere un ottimo giorno per fare la segna stampa il lunedì l'abbiamo dedicato alle classifiche il fine settimana è il gioco e oggi mi sembra un buongiorno per proporre l'argomento della settimana su cui poi riflettere fare un po di di così dell'ucubrazioni eccetera eccetera e l'argomento della settimana è l'italia allora prendiamo spunto per noi è l'italia ovviamente e sei nazioni prendiamo spunto di questo video che è uscito ieri e che è uscito ieri su squidge rugby no magari tra l'altro non tutti parlano inglese quindi ve lo ne approfitto per riassumere un po il punto di vista che questo ragazzo inglese innamorato dell'italia ha dato sulla nostra nazionale allora intanto ancora prima di parlare anzi no lo diciamo dopo volevo volevo dirvi la novità diciamo che c'è stata nelle nelle convocazioni dell'italia vabbè ormai l'ho detto lucchi convocato enrico lucchi anche viste le assenze di morisi menoncello viene convocato enrico lucchi che potrebbe già esordire dai 23 nei 23 con la francia bene torniamo su squidge rugby allora è bellissimo questo video perché squidge che poi non so come si chiama ma non so neanche cosa significa di squidge onestamente squidge inizia con un'immagine molto molto simpatica no allora l'incipit è veramente bello perché mette fuori la faccia di aimona dice dice vabbè a parte il fatto che qualcuno dice che avrebbero forse dovuto adesso non ricordo bene ma avrebbero dovuto tenere aimona insomma dice una cosa simpatica su aimona che viene messo lì proprio come immagine random e poi inizia inizia il ragionamento il ragionamento che poi sarà poi il fil rouge di tutto il video perché dice sottolinea come l'italia abbia sempre guardato indietro mentre adesso è arrivato il momento di guardare in avanti e allora quando dice sempre guardato indietro dice per esempio ci si ricorda parisse flexando sul fatto che lui si sarebbe dovuto portare sulle spalle tutto il peso della nazionale italiana oppure Castro facendo un po' il figo e fanno vedere un'intervista dove lui diceva ma per me tutti i giorni è San Valentino e poi diceva però facendo anche il figo in mischia e fa vedere insomma la potenza di Castro in mischia poi parla di del piede fluido di Dominguez e di Bergamirco e per poi concludere ai passaggi non così adesso non ricordo la parola non così forse non utilizzare una differente di Mauro Bergamasco che poverino ha dato molto di più alla nazionale italiana che per essere ricordato solo per quel terribile pomeriggio dove Mallet lo mise a Twickenham mediano di mischia ero lì, ero lì presente la mia unica partita vista a Twickenham bisogna tornarci perché l'atmosfera però essere lì proprio nell'unica volta che l'Italia fa una figura del genere va bene, va bene, comunque cambiamo capitolo così come ci propone di fare Squidge Rugby Squidge Rugby ci dice però adesso è arrivato il momento di guardare in avanti e che cosa significa guardare in avanti? c'è una botta di ottimismo il nostro amico Squidge perché guardare in avanti dice inizia allora a parlare degli ultimi anni e mette come un prima e un dopo ossia secondo lui nel momento in cui arriva con Orochi l'Italia cambia la prospettiva ossia l'idea non è più quella di evitare i danni non è più quella di non prendere il cucchiaio di legno prendere meno di 40 punti eccetera 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 ma si inizia finalmente a ragionare sul fatto di un giorno vincere il 6 nazioni e questo è il grande sogno e ovviamente non siamo mai così lontani dal raggiungimento di questo sogno come in questo momento e lì ci sono i facts allora anche lì il nostro caro amico Squidge si sofferma sul fatto che i fatti sono che l'Italia poi ne nomina vari però ne prendo uno l'Italia del 2021 è la peggior squadra che abbia mai giocato il torneo del 6 nazioni in base a cosa? ai numeri in base alla differenza di punti presi no a quello alla differenza di punti presi e alle sconfitte subite e soprattutto lì poi si riapre allora tutta la polemica di anche lui ci sorride sopra nel video perché si riapre tutta la polemica di ma se fa vedere un gallese che dice adesso non ricordo ma ricordo che gallese che dice perché poi va velocissimo il video che dice ma se mandassimo fuori l'Italia e mettessimo dentro due gallese ovviamente scherzando e insomma allora tutta la polemica sull'Italia che deve uscire è una polemica che assolutamente non è in questo momento rilevante quindi bene i fatti sono che l'Italia parte da una posizione scomodissima ossia parte dalla posizione della squadra peggiore che abbia mai partecipato al torno delle 6 nazioni se a questo ci aggiungiamo e qua non lo dice il video lo dico io se a questo ci aggiungiamo che le avversarie sono probabilmente nel momento di forma migliore degli ultimi 20 anni cioè tutto insieme perché magari c'è stato un periodo in cui o caspita che forte che l'Irlanda o caspita che forte che l'Inghilterra o ad alla Francia eccetera eccetera però in questo momento sono tutte assieme perché si sta parlando di una delle migliori scozie mai viste allora innanzitutto smettiamo di sottovalutare il Galles Galles campione in carica punto campione in carica è stato appunto fatto un sondaggio recente dove dicevano qual è la squadra con cui l'Italia potrebbe avere più possibilità di subire meno danni ed è stato nominato a grande maggioranza prima di tutto il Galles che è vero che sembra adesso forse la più abbordabile però sono i campioni in carica e il Galles è sempre così sembra sempre sfavorita e poi alla fine ti va magari a vincere il grande slam quindi Galles campione in carica Scozia stiamo parlando della Scozia più bella probabilmente che si è mai vista o quantomeno degli ultimi degli ultimi anni come bellezza di gioco probabilmente la più bella di sempre perché il lavoro che sta facendo Thousand è importantissimo Irlanda e neanche parlarne hanno appena battuto hanno appena battuto gli All Blacks in una maniera incredibile la stessa cosa ha fatto la Francia e l'Inghilterra per non farsi mancare niente ha battuto gli Springboks campioni del mondo e soprattutto sono nel bel mezzo di un progetto con un Eddie Jones assatanato di di sangue nel sangue che prende la forma della Coppa del Mondo cioè questo è un momento di passaggio per l'Inghilterra però è un momento di passaggio importantissimo importantissimo l'anno pre-mondiale che è sempre il più difficile perché poi l'anno del mondiale ci sono vari pro-esperimenti eccetera quindi per tornare all'Italia squadra peggiore prestazione peggiore del torneo precedente di sempre del torneo precedente e avversarie nel loro momento peggio di così non si potrebbe non si potrebbe pensare e invece il nostro caro amico Squish ci dà una botta di ottimismo una botta di ottimismo perché dice va bene guardiamo però un attimo tutto il sistema allora parla di Hoshi parla dell'entrata di Abu e allora parla Aboud 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 Abou vabbè comunque insomma l'irlandese l'ha pelato e parla dei risultati dell'Under 20 risultati dell'Under 20 che se qualcuno se lo fosse perso guardatevi quel pezzo di Squish dove fa vedere che ad esempio ad esempio vabbè oltre al fatto che l'Under 20 è praticamente sempre competitiva sia dal punto di vista dei risultati e degli scarti numerici sia dal punto di vista proprio del vincere e perdere le partite ma dice facciamo un passo ancora sotto e vediamo che l'Under 18 ad esempio l'anno scorso ha giocato con 5 nazioni con tutte e 5 le nazioni del Six Nation e ha vinto 4 partite quindi non c'è il Six Nation Under 18 però potenzialmente l'Italia Under 18 avrebbe potuto vincere il torneo Six Nation l'anno scorso e così dice non è la cosa di un anno è già 3-4 anni che questi risultati si stanno ripetendo quindi appunto proprio dall'intervento dal momento in cui Oshii ha messo mano e quanto è stato importante per il movimento linguistico italiano bene questo ci dà questa spinta di ottimismo verso il futuro che poi si concretizza nel fatto di avere giocatori sui quali si può costruire sul lungo periodo quindi vabbè non serviva che ce lo dicesse Squidge però sappiamo benissimo che abbiamo Varney Menuncello Mori Garbisi eccetera Garbisi lasciamo una parentesi perché ci torniamo e ci tornerà soprattutto il nostro amico Squidge bene analisi della difesa allora così dal nulla no facciamo il passaggio scusate mi avevo fatto la scaletta finita questa prima parte descrittiva quello che io trovo particolarmente interessante nel video in questione è la seconda parte perché viene fatta un'analisi del gioco soprattutto difensivo dell'Italia concentrando poi tutto quello che è l'analisi del gioco offensivo sulla figura di Paolo Garbisi che dovrebbe essere secondo lui ma secondo tutti centrale nel ruolo dell'Italia occhio però a non a non legarci troppo alla figura di un giocatore perché se poi diamo tutta questa centralità alla figura di Paolo Garbisi il giorno in cui non abbiamo Garbisi siamo nella ok bene bene quindi è interessante l'analisi perché dice il primo grande cambiamento che si è visto dall'entrata di Crowley rispetto all'entrata di Smith è stata la difesa quindi Italia che passa da una difesa in stile sudafricano a una difesa più in stile Crusaders e fa vedere delle immagini lì non serve parlare l'inglese per vederlo lo trovate vedete le immagini nella seconda parte del video fa vedere delle immagini dove il diciamo che i pattern della difesa della difesa dell'Italia sono fondamentalmente due uno l'uscita forte sul primo canale sul primo pod della linea ok con il canale 2 un po' più attendista è pronto a scalare è però un blitz sul secondo o terzo passaggio dipende dalle distanze e il giocatore interno a quello che va fuori in blitz che fa il fold ossia va a scalare recuperando la posizione dietro alla schiena invece di muoversi con un drift unico il giocatore interno a quello che fa il blitz va a scalare e va a prendere il il giocatore va a recuperare nel caso in cui il blitz non abbia successo ok quindi non si riesca a entrare su uomo pallone e allora c'è il giocatore interno si vede nacho breaks che lo fa più di una volta si vede un'immagine con gli or blacks eccetera eccetera bene uno spunto interessante anche per vedere le partite quindi vediamo se questa difesa funzionerà funziona lui dice sì volevo dire nì ma invece sì perché anche lì basandosi sui fatti fa vedere come nella finestra autunnale l'Italia abbia fondamentalmente preso solamente due mete con una rottura chiara della difesa le varie mete che abbiamo preso sono state più per coperture della profondità fatta male qualche rimbalzo del pallone qualche chip kick eccetera eccetera moll moll quindi vabbè però quelle le prendono tutti anche se è una fase cruciale del gioco da migliorare ma quelle le prendono tutti ho fatto un'analisi da poco dove si stimava che l'azione di Tushmol ha più del 50% di possibilità di riuscire in una meta diretta o indiretta cioè prima di riuscire dai 22 ok quindi insomma su quello c'è ben poco da fare limitare i danni però in break diretti l'Italia è prende solamente due mete e soprattutto fa vedere come l'Italia difende 17 fasi contro gli All Blacks con questo tipo di difesa difesa che lui stesso definisce bend that doesn't break ossia si piega ma non si rompe ok adesso scusate se in inglese non è perfetto si piega ma non si rompe va bene quindi sarà molto interessante vedere appunto questo aspetto della difesa quando passa a parlare dell'attacco inizia invece quello che io definirei l'elogio a Paolo Garbisi allora secondo il nostro caro amico Squidge Rugby Paolo Garbisi è la figura centrale vabbè lui l'ha sempre amato ha fatto più di un video se cercate tra i suoi video la figura di Paolo Garbisi trovate più di un video dove lui parla appunto del nostro giovane ragazzo da mogliano però dà degli spunti interessanti lui da fine conoscitore del rugby da studioso del rugby e da estimatore di Paolo Garbisi riesce a trovare magari degli spunti che noi magari non sempre riusciamo a cogliere quindi anche perché poi le cose viste da fuori tra virgolette sono a volte più chiare che viste da dentro perché noi magari ci lasciamo condizionare un po' dalle emozioni ecco lui invece dice allora prima di tutto Garbisi allora lui dice prima di tutto il gioco dell'Italia il gioco dell'Italia in attacco il cambio principale è che non prevede l'utilizzo del calcio come un ricorso come un ricorso di strategia predefinita ossia secondo lui Crowley non ha una strategia vabbè a parte l'ex strategia dei 22 però non ha una strategia con dove il piede sia un ricorso predefinito cioè dopo tre fasi se non attacchiamo da destra a sinistra lo utilizziamo il piede no viene lasciato l'utilizzo al piede alla decisionalità e spontaneità del singolo giocatore che vede lo spazio e quindi tutta la squadra si deve adattare a quella presa di decisione questa è la chiave di lettura che viene data da Squidge Rugby nel frante dei vari esempi e credo che sia abbastanza interessante e qui entra in gioco Paolo Garbisi la grande qualità che viene attribuita al nostro ragazzo Damogliano è l'anticipazione l'anticipazione e io credo che ne abbiamo parlato nel podcast la settimana scorsa l'anticipazione è la qualità migliore di qualsiasi di qualsiasi atleta occhio spara la bomba spara la bomba il nostro amico Squidge perché dice secondo me Paolo Garbisi potrebbe finire la sua carriera come il miglior si ferma secondo me vorrebbe dire la migliore apertura di sempre ma poi si rende conto anche lui che sta per sparare una calzata e allora dice il miglior giocatore italiano di sempre oggi come oggi io credo che questo ruolo se lo giocano in due Diego Dominguez e soprattutto Sergio Paris insomma e come disse il buon Bonucci dopo la finale degli europei ne ha da mangiare ancora di pasta asciutta però ha il tempo ha il tempo per mangiarsela questa pasta asciutta ecco bene allora quindi centralità del ruolo di Paolo Garbisi centralità del ruolo di Paolo Garbisi che secondo l'autore del video verrà esaltata e qua è molto interessante quello che dice e si capiscono anche alcune scelte crouliane chissà se si può utilizzare questo termine crouliani come si dice non so guardiolani crouliane della convocazione di Edoardo Padovani unica alternativa l'abbiamo detto in questo momento alla posizione di fullback reale adesso abbiamo anche il piano B con Angi con Angi Capozzo però ci fa capire un po' forse quello che vuole Crowley da Padovani ossia un giocatore che dia a Garbisi la possibilità di avere un secondo playmaker nella retrolinea però senza essere scavalcato come faceva o come avrebbe potuto fare Canna interessante queste cose ossia un secondo playmaker al servizio di Garbisi non al posto di Garbisi e questa è una lettura molto molto interessante perché in effetti sono caratteristiche che non propongono né Minozzi né Capuozzo Capuozzo vedremo però insomma sembra un fullback un estremo più o meno dalle stesse caratteristiche di Minozzi ossia bello frizzante veloce rapido più una minaccia in attacco che un costruttore di gioco ecco invece Padovani potrebbe dare a Garbisi quella soluzione di avere appunto un un giocatore con un ottimo piede una buona capacità di distribuzione di gioco al suo servizio ok quindi muovere muoversi un attimino secondo i ritmi che vengono dettati da Garbisi grazie alla sua capacità di anticipazione e alla sua fiducia che ha in se stesso e cui fa un paragone con Ford se non ricordo male Moanga eccetera dove dice che Garbisi quando deve prendere la decisione prende spesso e volentieri la più complicata ma nel senso buono della parola ossia se vede una decisione possibile che potrebbe portare grossi dividendi non ha paura di eseguirla nonostante la difficoltà bene mi sembra che si sia disegnato un bel un bel panorama no? bene c'è proprio un una botta di ottimismo che ci dà Squeeze Rugby perché poi alla fine conclude dicendo l'Italia finalmente non guarda più indietro ma guarda avanti non deve più guardare a e poi dice ai tempi in cui Paris e poi fa ops e fa vedere che Paris tornerà però sapete la mia opinione su questo io credo che sia giusto utile e buono e giusto Paris tornerà e poi dice oh cazzo l'hanno addirittura messo sui cartelloni bello 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 bella la fila e niente dai finiamo questo video con appunto questo slancio ottimistico e andiamo andiamo a così con la lancia in punta ad affrontare questo questo sei nazioni allora per riportarci un po' sulla terra oggi ho detto vediamo un po' cosa dicono di noi abbiamo fatto tutta questa cosa su Squeeze Rugby però per riportarci un po' sulla terra vi dico solo che il MidiOlympic ha tirato fuori quella che secondo loro potrebbe essere la probabile formazione che andremo ad affrontare della Francia tra l'altro nel video di Squeeze si vede anche un momento in cui lui mette giù la probabile formazione dell'Italia bisogna bloccare perché lui lì con la sua lavagnetta tra l'altro con i riflessi non si vede proprio bene eccetera eccetera però mette giù la sua probabile formazione ma della probabile formazione dell'Italia parleremo un po' più avanti intanto vi anticipo così l'idea francese sulla probabile formazione della Francia che potrebbe essere Bail Marchand Antonio Obama Leroux Willems Gérant Ocros Aldrit Wauquie Wauquie Aldrit che quelli hanno messi storti Dupont Ntamac per tutti quelli che dicevano ah che bello non giochiamo giochiamo senza Dupont Ntamac non è che è così era quello che si era detto invece poi sono tornati in campo nel fine settimana e quindi li vedremo in campo anche sabato contro l'Italia molto probabilmente anzi io credo che la partita dell'Italia verrà utilizzata per dare minuti a Dupont Ntamac quindi è molto probabile che li vedremo in campo e poi abbiamo Villiers Ficou Danty Penod e Jaminé insomma vale è anche inutile dire che è una formazione che fa paura però noi siamo coraggiosi adesso con questo slancio ottimistico andiamo sicuri verso il futuro ok verso il sol dell'avvenire allora finiamo finiamo il video di oggi con i soliti consigli consigli per le letture per le letture sempre per restare in tema vi consiglio l'articolo di ovale sulla conferenza stampa di Crowley perché anche qui per entrare in ambiente partita Crowley racconta alla stampa estera più di quello che racconta la stampa italiana forse anche perché alcune volte le domande sono più specifiche e quindi Crowley racconta e dice per esempio ci racconta che l'Italia sta lavorando sulla disciplina ossia è stato invitato al camp dell'Italia Roland l'arbitro e l'Italia sta lavorando sul regolamento ormai è diventata una costituzione questa non solo dell'Italia di tante squadre di invitare sia in preparazione del Sei Nazioni sia in preparazione della Coppa del Mundo degli arbitri a fare da assessori al gioco al regolamento quindi bene questa è una buona novità poi racconta del fatto di quali sono le aspettative dell'Italia questo sì che l'aveva già detto nella conferenza italiana aveva detto che l'Italia si deve concentrare sulle piccole vittorie non deve in questo momento pensare alle vittorie è ovvio che l'obiettivo sarà vincere delle partite però adesso come adesso gli obiettivi vanno messi sempre leggermente più su del del realistico perché se tu metti degli obiettivi irraggiungibili è difficile e obiettivamente oggi come oggi pensare di vincere contro una delle cinque nazioni che abbiamo nominato è abbastanza complicato anche se non si sa mai però lui dice concentriamoci sulle piccole vittorie quindi ne nomina tre in conferenza stampa italiana ne aveva nominata sette otto qui riduciamo il gruppo a tre quindi magari anche sarà su quello che andremo un po' a giudicare il lavoro dell'Italia attenzione quando si dice giudicare non significa tirare giù la scure la laccetta no significa semplicemente andare a verificare un po' quindi lui dice il breakdown le fasi ordinate e la disciplina quindi breakdown poi non va non va nello specifico però andremo a vedere se abbiamo delle rack veloci se abbiamo delle rack pulite eccetera eccetera fasi ordinate ovviamente mischia e tush sono importantissime io mi accontenterei di una mischia che tenga e di una tush che funzioni non hai detto niente e poi la disciplina ridurre ovviamente il numero di 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 punizioni secondo me questa delle tre è forse un po' la più importante perché l'Italia forse perché si trova spesso in affanno però ha giocatori che a volte sembrano un po' poco pensanti quindi secondo me qui a partire dal capitano in testa fino ad andare giù fino a tutti seconde linee bla 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 bisognerà utilizzare la testa poi gli viene fatta una domanda gli viene detto ma c'è un problema di fitness anche perché va detto che Franco Smith ce l'aveva menata con questa cosa del fitness che i giocatori devono essere grossi che questo che questo e quell'altro e invece qua Crowley parte di contropiede e dice no dice abbiamo fatto i test abbiamo i numeri il nostro fitness è a livello delle altre squadre del 5 nazioni lui dice più che il fitness forse c'è un problema di stazza questo anche lo diceva Franco Smith però non è un problema risolvibile cioè non è che adesso all'ora di far fare palestre e far gonfiare i nostri giocatori ma sono già palestrati cioè non è come magari in altri sport il basket uno dice il giocatore viene in NBA deve mettersi deve diventare più grosso ma questi sono già grossi quindi sono grossi nelle loro possibilità quindi o prendi giocatori diversi oppure il problema della stazza è qualcosa con cui devi avere a che fare punto e basta ok e poi so è vero che magari ci manca qualche qualche centimetro però io credo che abbiamo comunque giocatori anche abbastanza belli prestanti bene quindi insomma questa è la lettura che vi consiglio la trovate sul blog la trovate sul blog di Ovale per gli ascolti questa volta vi consiglio un video di YouTube per uno dice ma come non erano i podcast gli ascolti no gli ascolti sono tutti quelli dove non serve guardare le immagini ok quindi può essere anche un video di YouTube e questa volta mi consiglio un'interessante intervista di Roberto Marelli su Bulldog Rugby Supplies a Giampiero De Carli ok che parla un po' della sua vita molto interessante ma affronta alcuni argomenti come come ha vissuto ad esempio come si viveva il rugby ai suoi tempi le sostituzioni non le sostituzioni poi alla fine c'è una parte molto interessante dove parla di mischia e di regolamenti anche andando un po' più sullo specifico da vedere tra tutte le interviste di Bulldog questa è una delle più interessanti secondo me e poi come video ah vabbè ovviamente abbiamo parlato tutto il video di un video però allora ve ne consiglio uno simile ma differente se qui abbiamo parlato di Squidge Rugby che andatevelo a vedere vi consiglio una copia di Squidge Rugby ossia Weeble Rugby è un altro youtuber che fa dei video veramente simili come stile a Squidge Rugby con meno successo con molti meno followers però anche quelli molto molto interessanti analizzati lavorati e visto che questa settimana giochiamo con la Francia Weeble ci parla dell'attacco francese bene io direi che per oggi va benissimo così siamo anche riusciti a essere leggermente più corti del solito fischio finale un bacio e a domani ciao